...e una questione per la poesia andando a la scienza e ad oggi mi attivo la pubblicazione di sei opere poetiche e forse i 70 e i 12 di ottobre... ...oce... ...e... ...a questa... ...e quella... ...e lei con la poesia... 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 ...ouhhh... ...e lei con la poesia... ...e lei con la poesia di tutto il padre... Come si fa? E' peggio. Grazie a tutti. Va bene così. Sempre bella sarò ai tuoi occhi, prometti. Così sempre, anche quanto il tempo sfiorirà dalle mie mani.